È un evento estremamente interessante, il primo per me, ma così originale nella sua formulazione con questi appunto workshop veramente interessanti, queste videoproiezioni stimolanti sul piano così di attività intellettuale che di condivisione. Per cui ritengo che come metodologia sia una metodologia molto ben riuscita come piattaforma di lancio per progredire nell'ambito scientifico.